Nel pieno della settimana santa procedono le celebrazioni religiose in preparazione alla festa di Pasqua per la resurrezione di Cristo. Momenti intensi di spiritualità che in tutte le chiese dell'alto di Reno Cosentino sono legati ad antiche tradizioni del territorio. Anche la parrocchia di Marcellina si appresta a vivere il triduo pasquale. A partire da giovedì santo con la messa della cena del Signore e in serata poi si prosegue con l'ora dell'agonia, la visita all'altare della reposizione, l'adorazione eucaristica. Mentre il venerdì santo viene partecipato sin dal mattino c'è anche la possibilità certamente di accostarsi al famoso precetto pasquale, la confessione sacramentale. Ma è nel pomeriggio che poi la comunità si ritrova unita sia per la vera celebrazione del ricordo della morte del Signore che la liturgia dell'adorazione della croce. Mentre sabato sera, anche se liturgicamente siamo già a Pasqua, c'è la solenne veglia pasquale. Tradizione e fede invece per la Via Crucis vivente di venerdì sera per le strade del paese. Ripropone a livello figurativo ma anche in uno stile di teatro sacro, di memoria medievale, gli ultimi momenti della vita di Cristo. Il tutto poi si conclude con la crocifissione nei pressi della Chiesa su una piccola collinetta. Ogni momento della settimana santa è caratterizzato da osanze popolari ma come ha sottolineato Don Paolo mai perdere di vista il vero motivo di queste celebrazioni. Gli aspetti della pietà popolare sono sempre quegli aspetti che poi maggiormente coinvolgono i sentimenti, i moti del cuore. Per cui quella non è una celebrazione ufficiale, è una celebrazione secondaria ma non del tutto. Perché quello ufficiale rimane sempre la liturgia, però la Via Crucis riesce a condensare in sé anche l'aspetto popolare di partecipazione, anche emotiva.